Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi, la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Per questa operazione è necessario un filter box che puoi trovare nella descrizione del video. Include tutti i filtri necessari per la manutenzione dell'auto, oltre al tappo serbatoio olio. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Adesso potrai facilmente accedere alla scatola dell'aria per cambiare il filtro. Con una chiave a bussola, una prolunga e una bussola Torx 20, rimuovere le tre viti di fissaggio della flangia del filtro aria. L'uso di un cardano semplifica notevolmente la gestione, poiché le viti sono difficilmente accessibili. Usa una chiave a bussola con inserto da 7 per svitare l'anello di serraggio del condotto di entrata dell'aria. Poi rimuovilo. Solleva la flangia. Prima di montare il filtro nuovo, è importante togliere le impurità rimaste nel compartimento del filtro. Tutti i componenti utilizzati in questa guida sono forniti dai nostri soccifidati e anche loro ci aiutano a produrre sempre più tutorial. Trovi il link nella descrizione. Prendere il nuovo filtro che si trova nel filter box. Include tutti i filtri necessari per la manutenzione dell'auto, oltre al tappo serbatoio olio. Confronta il filtro vecchio con quello nuovo per assicurarti che siano uguali. Metti in posizione il filtro nuovo. Assicurati che il bordo di gomma sia inserito nel suo supporto. In tal modo sarà più facile rimettere a posto la flangia. Per rimettere a posto la flangia, inclinala in modo che le linguete entrino per prime. Poi ruotala per farla aderire al compartimento del filtro. Riavvitare le tre viti di fissaggio della flangia. Riattacca il condotto d'entrata dell'aria. Stringi l'anello di sostegno. Operazione conclusa. Ciao, sono Nonno di Houston. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuici al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao. Grazie. Ciao.